Il primo festival della pizza dedicato da Matrice ha raccontato la sua esperienza e ringraziato tutti i partecipanti Buonasera a tutti, come mia caratteristica sarò molto breve raccontandomi il perché, forse essendo più di altri, la necessità di aiutare tutte le vittime colpite dal sisma al centro Italia il 24 agosto Ecco, all'età di 7 anni mi sono ritrovato in Irpinia a dormire in auto come tutti i miei compaesati a causa del terremoto dell'80 Capirete quindi perché sono rimasto molto influenzato dall'accaduto e perché essendo la necessità di aiutare tutte le vittime di cataclismo Io in primis, nonché tutti gli amministratori, abbiamo provveduto a versare il nostro contributo dando il via alle donazioni Per fortuna però non solo io che ho subito il forte trauma psicologico del terremoto, sono impegnato ad aiutare gli sfollati Ma pensi vorrei ringraziare innanzitutto tutti i miei concittadini che hanno dato il loro contributo Versando delle somme sul conto del comune di Ozzegno Inoltre ho un'infinità di persone da ringraziare Innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti perché se siamo qui è perché tutti noi sentiamo l'importanza di questo gesto Voglio ringraziare tutti i sindaci qui presenti che ci hanno onorato Il sindaco di Via Alfre, Pietro Giannoglio Il sindaco di Montalente, Valerio Grosso Il sindaco di Torre, Gianviero Cavallo E il comandante della stazione dei carabinieri di Aglie, Angelo Pili Grazie Poi voglio ringraziare tutti gli enti ozzegnesi Che in qualche modo hanno dato un supporto alla organizzazione dell'evento E a tutte le persone che hanno prestato il loro tempo dedicando la Dammatrice E che sono qua a lavorare questa sera Ringrazio ancora tutti i commercianti del paese Che si sono impegnati a vendere delle penne Acquistate da un'idea nata da alcuni amministratori del comune Il cui ricavato verrà devoluto ad Amatrice Poi vorrei ringraziare ancora le varie attività di ristorazione e pizzerie del Canavese Che hanno aderito all'iniziativo mettendo a disposizione il proprio personale Tra cui la pizzeria da sport a pizza di Cornier La pizzeria e birrerie Linsonia di Coleretto Castelnuovo Il ristorante da Pino di Ozzegna La pizzeria Gione di Castellavonte La pizzeria Risaca di Prediglione La pizzeria L'Isola di Fabria Il ristorante Monnalise di Ozzegna E il ristorante 1388 Ecco tutti qui questa sera a dedicare il loro tempo gratuitamente ad Amatrice Voglio ancora ringraziare tutti i componenti del comune Sia gli amministratori che i dipendenti comunali Inoltre ancora grazie al Circo Uom Che a titolo gratuito ha fatto divertire tutti i nostri bambini E grazie al canto autore Loris Idali per la musica della serata Nonché un ringraziamento al signor Bruno Costano Per l'organizzazione della sfilata di modo Per il Miso Zegna, per Amatrice E tutte le ragazze che hanno dedicato il loro tempo a sfilare qui questa sera Ancora un grazie a tutti Perché grazie a voi il comune di Ozzegna ha potuto e potrà Ancora dare il proprio sostegno ad Amatrice Infine voglio precisare una cosa Che non appena avrò in mano tutti i dati di questa operazione Sarà a mia cura ricordarvi Rendicondarvi su ogni centesimo entrata e ogni centesimo uscito Perché sia chiaro a tutti l'importo finale Che sarà consegnata ad Amatrice Grazie a questa nostra piccola ma enorme operazione di beneficenza Volevo ancora ringraziare La presenza della signora Adonella Marena Perché grazie a lei e alla sua famiglia Che hanno donato questa splendida struttura Oggi riusciamo ad organizzare eventi di ogni genere Grazie a voi A questo punto proporrei un grande applauso Di ringraziamento in onore di tutti quelli Che ho nominati e quanti hanno contribuito in silenzio Buon proseguimento della serata E grazie ancora a tutti Grazie a tutti Con la nuova banca dei sequestri che c'è Ai, 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 assasini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti